... Benvenuto! Finalmente siamo tutti! Possiamo partire! Buon viaggio! Il marino californiano e come tutti i leoni marini è molto agile sulla terraferma visto che può camminare sugli arti posteriori ruotandoli in avanti. Non lo spaventarti per le dimensioni. Questo è un maschio adulto di Leone Marino della California. Noi ci salutiamo così. Grazie! Applausi! Siedono una folta pelliccia che va incontro a muta di norma una volta all'anno. Le localizzazioni sono utilizzate per comunicare o nel riconoscimento madre piccola. Grazie! 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 Grazie a tutti